Ciao a tutti da Diego di TecnoFan.it Eccoci finalmente alla recensione di Samsung Galaxy S10 Plus Sono un pochino in ritardo con la mia tabella di marcia E oramai è passato più di un mese da quando l'ho utilizzato Quindi ne approfitto anche per parlarvi di come mi sono trovato in questo mese Diciamo che sarà una recensione un po' anomala questa Ma soprattutto vi voglio far vedere tutto questo ecosistema Perché nel frattempo ho acquistato il Gear Galaxy Watch Active Non mi veniva il nome E mi è arrivato l'omaggio ovvero questo powerbank con ricarica rapida E mi è arrivato anche l'omaggio della prenotazione del Galaxy S10 Plus Ovvero le Galaxy Buds Quindi un ecosistema che ha creato Samsung che è davvero tanta tanta roba Ma veniamo al dispositivo In questi giorni diciamo l'ho utilizzato praticamente sempre E devo dire che è diventato il mio smartphone comunque di riferimento Sono riuscito a mettere via il mio iPhone XS Max Perché comunque con tutto questo ecosistema devo dire che Samsung è riuscita veramente a dar del filo da torcere All'accoppiata diciamo vincente di iPhone più Apple Watch più le cuffiette Airpods Quindi Samsung da questo punto di vista qua Davvero complimenti perché ha fatto veramente un ottimo lavoro E un ottimo lavoro l'ha fatto anche con il Galaxy S10 Plus Io sinceramente fatico a trovarci dei difetti Se proprio devo andare a cercare il pelone nuovo La cosa che veramente non capisco è questo pulsante di accensione messo qua in alto È scomodo da raggiungere Ok Poi un'altra cosa che non è proprio il massimo è la velocità dello sblocco con il sensore dell'impronte Che è posizionato sotto al display Però c'è da dire anche questo È di tipo ultrasonico Ovvero che funziona anche a schermo spento Basta che voi sappiate dove è il punto da toccare E lui lo sblocca Di Pro cosa c'ha? Non illumina il display Quindi ho provato altri dispositivi che hanno il sensore non ultrasolico ma ottico Cosa fa? Lui accende una parte del display E di notte vi fa una flashata Che vabbè sono minchiate ragazzi Però giusto per dirvi queste cose Per il resto Inizialmente avevo qualche dubbio sulla durata della batteria Però devo dire che ultimamente Soprattutto grazie ad un aggiornamento che è arrivato circa due settimane fa Ho trovato un sensibile miglioramento Mi ritrovo ad arrivare a sera con anche 5 ore di display Tranquillamente acceso dalle 6 fino alle 10 di sera Con il 20-30% di batteria E ok la batteria è da 4000A Sicuramente potrebbe dare di più Quello sono il primo a dirlo Però devo dire che veramente è tutta un'altra cosa rispetto magari a un S9 Plus dell'anno scorso Anche per quanto riguarda le prestazioni generali Il dispositivo beh non ha niente diciamo da invidiare a nessuno C'è un processore di ultima generazione In questo caso abbiamo il processore di Samsung L'Exynos è un octa-core da 2.4 GHz Con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria Espandibili via microSD È un dual SIM Hanno finalmente levato la scritta DUOS che c'era qua dietro E nel rete troviamo queste tre fantastiche fotocamere Fotocamere che per quanto mi riguarda sono davvero ottime Scatta delle foto veramente eccezionali Si difende bene anche di notte Magari non ha quella qualità che si è visto con il P30 Pro O il P30 che tra l'altro lo sto provando in questi giorni E a breve arriverà la recensione sul canale Però devo dire che nel complesso è veramente un ottimo dispositivo Per quanto riguarda lo scatto delle foto E anche per quanto riguarda la registrazione dei video Pensate che io ho anche il gimbal, quello piccolino, il DJ Osmo Pocket Sono stato via una settimana in montagna eccetera eccetera Ci avevo anche quello ma non l'ho usato Perché utilizzavo la funzione di registrazione video del Galaxy S10 Plus Che ha una funzione di stabilizzazione elettronica Che è esattamente questa Che fa veramente dei video pazzeschi Guardate i video che ho caricato di prova sul canale Perché meritano davvero l'attenzione Per il resto poi il dispositivo è velocissimo Ha la nuova interfaccia One UI Che è veramente una marcia in più Perché comunque ti dà la possibilità di utilizzare alcune applicazioni Semplicemente con una mano Vi faccio un esempio Andiamo ad aprire le impostazioni Vedete sono tutte a portata di dito Quindi non dovrete andare sopra a usare diciamo lo smartphone in modo anomalo Con il disco magari che vi caschi Perché è tutto a portata di dito Sia per quanto riguarda l'interfaccia dei messaggi L'interfaccia delle chiamate eccetera eccetera Davvero un ottimo dispositivo Browser veramente al top Io sinceramente non ho Trovo veramente difficoltà a trovare dei difetti Tra l'altro ha anche la ricarica wireless È possibile utilizzarlo per ricaricare altri dispositivi Perché c'è la funzione di condivisione della ricarica Che è comodissima se avete uno smartwatch Samsung Perché vi basterà appoggiarlo nel retro per ricaricare anche lo smartwatch E questa è una cosa comodissima perché siete in vacanza Io tutte le volte che vado via mi dimentico sempre il caricabatterie per l'orologio Nessun problema Metto sotto carica alla sera il mio smartphone E sopra ci appoggio il dispositivo E lui se lo ricaricherà wireless Quindi davvero eccezionale Tra l'altro ha anche l'uscita tv Basta comprare un semplice cavo HDMI con USB Type-C E sulla televisione vedrete un'interfaccia desktop Che è fantastica ragazzi Velocissima Sembra di avere un computer portatile Tra l'altro utilizzate il display del vostro dispositivo come touchpad Quindi veramente sono cose diciamo che hanno una marcia in più E vi permettono di utilizzare veramente il dispositivo al 100% Ma adesso veniamo anche un pochino all'ecosistema L'ecosistema Samsung è questo Hanno fatto uno smartwatch davvero molto molto carino Anche in questo caso trovate la recensione sul mio canale YouTube Questo Galaxy Watch Active Lo trovo davvero comodo da utilizzare È piccolino Sta al polso È resistente all'acqua Quest'estate Io l'ho preso perché d'estate vado al mare Comunque non ho voglia di togliermi l'orologio Lo voglio tenere sempre al polso E questo penso che sia proprio la soluzione ideale È piccolino, leggero Ha una batteria che con il tempo è leggermente migliorata Ci faccio quasi due giorni interi Quindi devo dire che anche da questo punto di vista Sono molto soddisfatto In omaggio con questo orologio Mi è arrivato questo fantastico powerbank Fantastico powerbank che è da 10.000 mAh Che ha la ricarica via USB Type-C Ha un'uscita USB Ma in più ha anche questa cosa qua Fast Charge Ricarica il vostro smartphone O il vostro orologio A 10 Watt Quindi ha supporto alla ricarica rapida La cosa è davvero molto comoda e davvero molto semplice Basterà appoggiare sopra il dispositivo E vedete parte la ricarica Chiaramente è compatibile con qualsiasi tipo di dispositivo In questo caso ho tutti i dispositivi Samsung Però ad esempio se voglio caricare le Galaxy Buds Lo vado a posizionare E vedete che si è accesa la lucina Quindi mi ricarica le Galaxy Buds Adesso spero di non far esplodere qualcosa Voglio ricaricare il dispositivo Lo smartphone Lo vado ad appoggiare sopra E tac Lui parte con la ricarica wireless rapida in corso Ed è davvero una comodità veramente pazzesca Il prezzo di questo Penso che sia 59 euro Penso Mentre per quanto riguarda le Galaxy Buds Beh è finalmente un'alternativa alle AirPods di Apple Hanno un prezzo di 149 euro Che diciamo sul mercato Sono disponibili a questo prezzo ufficiale Quando le apri Tac Subito vengono viste dal nostro smartphone E vengono riconosciute Vedete Galaxy Buds di Diego Vi dà la possibilità di utilizzarne sia una che l'altra Quindi anche in questo caso è molto comoda Tra l'altro se ce l'abbiamo in tasca La custodia è veramente piccolissima ragazzi È una delle poche che non dà assolutamente noia in tasca Ci arriva una chiamata Vogliamo rispondere con l'auricolare Basterà aprire Fare in tempo diciamo di fare questo movimento Per infilarla all'orecchio E siamo pronti per rispondere alla chiamata Qualità dell'audio veramente buona Io le trovo al pari delle iPods Se non superiore per quanto riguarda La possibilità diciamo di non sentire il rumore esterno Perché comunque sono degli auricolari in ear Che vi isolano dall'esterno C'è anche l'applicazione da utilizzare Galaxy Wearable È la solita applicazione che utilizziamo anche per il Gear Active Oppure gli smartwatch di Samsung Che vi permette poi di andare ad impostare delle equalizzazioni E tra l'altro potete anche scegliere se utilizzare Il comando diciamo O meglio i tre tocchi Per attivare l'assistente vocale Oppure per alzare o abbassare il volume Pesano niente Le ho provate anche per guardare un film intero Le ho collegate al Mi Box Ho guardato un film E assolutamente ragazzi Sembra di non averle E tra l'altro sono anche resistenti All'acqua Quindi in caso di sudore O comunque se mentre correte Prendete una sciacquata d'acqua Assolutamente non succede niente E vi rimangono veramente fisse alle vostre orecchie Davvero un ottimo prodotto E quindi devo dire che Questo ecosistema di Samsung È davvero tanta tanta roba Se Assolutamente ci vuole un bel budget Per avere tutte queste cose qua Però devo dire che Samsung quest'anno con S10 E con tutti i suoi prodotti Ha veramente chiuso il cerchio Per quanto riguarda Tutti questi accessori Perché è riuscita a rendere Diciamo compatibili tra di loro Tutti questi accessori E a darsi diciamo anche un senso Perché comunque Magari molti dicono Vabbè ma cosa serve Ricaricare Condividere la ricarica dallo smartphone Beh magari serve appunto a questo A ricaricare altri dispositivi Che comunque non serve poi Portarsi dietro Quei 100.000 caricabatterie Cavi, cavetti, controcavi Quindi Che dire Del Galaxy S10 Sono veramente soddisfatto Sicuramente Lo terrò Magari fino a che non uscirà Il prossimo iPhone Perché me l'ha fatto preferire ad iPhone? Perché c'è la fotocamera grandangolare Io penso che ad oggi Uno smartphone senza la fotocamera grandangolare Non abbia senso Quindi Sicuramente I nuovi iPhone ce l'avranno A meno che non sono pazzi da non mettercela Perché vi dà veramente la possibilità di fare degli scatti Veramente divertenti Io la adoro Mi piace E L'ho sempre detto Se andate a vedere i miei vecchi video Brava LG Che le ha sempre utilizzate Sul Suoi dispositivi E nessuno se le mai cagate Diciamo fino ad oggi Adesso che è diventata di moda Adesso la mettono tutti Però LG Fin da suoi primi Mi sembra il G6 Forse anche il G5 Aveva la fotocamera grandangolare E L'ho sempre preferita Magari al teleobiettivo 2P Quindi Ragazzi Se siete interessati Qua sotto trovate un po' di link Per acquistare Tutti questi prodotti Su Amazon Costano di meno Vi assicuro Tra l'altro Questo è crollato di prezzo In una maniera incredibile Se avete curiosità Vi aspetto nei commenti Ciao Da Diego